Via Crucis ha steccato di Cutro, in processione la croce realizzata con i pezzi del barcone. Scoperto una frode nelle agevolazioni sul gasolio agricolo nel Cosentino, alla mezzia terme convegno organizzato da Federfarma Catanzaro, il farmacista, da Clark Kent a Superman, come diventare un supereroe. Legambiente ha inaugurato a Ricadi la prima green station della Calabria. Ben ritrovati con l'informazione di Calabria TV. Centinaia di persone hanno sfilato in processione a steccato di Cutro, nel Crotonese, per ricordare le vittime del naufragio. La croce è stata realizzata con non pezzi del barcone. Presenti vescovi, sindaci, sacerdoti e anche limanna. Un migliaio di persone hanno partecipato alla Via Crucis, organizzata dalla vicaria di Belcastro e di Isola Caporizzuto, in memoria dei migranti vittime del naufragio di domenica scorsa a steccato di Cutro. In testa al corteo, la croce è realizzata su incarico di Don Francesco Loprete, parroco di Le Castella di Isola Caporizzuto, dall'artista Maurizio Giglio, con resti del barcone affondato. Abbiamo voluto realizzare questa croce, ha detto Don Francesco, per ricordare i tanti innocenti morti nel naufragio. Questo dramma non si cancellerà mai dalle nostre menti. Dopo duemila anni, Cristo è ancora in croce. Nel corso dell'iniziativa sono state lette preghiere, incentrate sulle vittime e sulla necessità di evitare che in futuro possano ripetersi tragedie simili. Signore Gesù, è stato detto in una delle preghiere, è facile portare il crocifisso al collo, appenderlo come ornamento sulla parete delle nostre belle cattedrali o delle nostre case. Ma non è altrettanto facile incontrare e riconoscere i nuovi crocifissi di oggi. I senza fissa dimora, i giovani senza speranza, senza lavoro e senza prospettive. Gli immigrati costretti a fare viaggi inauditi e a vivere nella precarietà ai margini della nostra società. Una situazione che andava certamente questa affrontata, dico affrontata perché la partecipazione emotiva è tanta. Perché se pensiamo che ci sono 70 morti e ancora si cercano dei dispersi, la situazione è davvero grave. A fronte di una popolazione qui di steccato, ma direi del crotonese, di tutta la Calabria, che non ha difficoltà ad ospitare. Io ho già ricordato che nel 2004, quando ero parroco qui, c'è stato di notte uno sbarco inaspettato, chiaramente. Ci si è avvisati l'un l'altro e la gente è andata con l'acqua, con le coperte, con i cappotti, con il pane. Ha aperto le case, questi naufraghi sono stati ospitati nelle case. Per cui da questo dico, non mi meraviglia l'accoglienza e la solidarietà che si è vista in questi giorni a livello nazionale. L'uomo è quello che ci interessa, la persona umana. Poi il fatto di essere di una religione diversa, diciamo, conta poco. Una frode nel settore delle agevolazioni fiscali sui prodotti energetici impiegati nei lavori agricoli e orticoli. In allevamento è florovivaistica. Per un totale di 95 mila euro di accise vase è stata scoperta dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane dei Monopoli di Catanzaro, che hanno denunciato il rappresentante legale di una società. La frode è stata accertata nel corso di un'attività di controllo su un deposito commerciale in provincia di Cosenza. Sulla base di quanto emerso dalla consultazione delle banche dati in uso all'Agenzia delle Dogane dei Monopoli e dopo aver effettuato un inventario fisico sul deposito che risultava inattivo da almeno sei mesi, sono stati posti a confronto gli acquisiti risultanti della contabilità dei fornitori e le consegne effettuate ai clienti, constatando così un ingente ammanco di gasolio ad uso agricolo. Attraverso questo sistema il carburante sarebbe stato sottratto all'accertamento e dal pagamento delle accise dovute. Tante criticità all'ospedale di merito Porto Salvo nel Regino, sono tanti i reparti che sono stati chiusi, pochi quelli che funzionano. Eppure copre un bacino di utenza di circa 50.000 residenti. Siamo all'ingresso dell'ospedale qui di merito Porto Salvo. In questo ospedale quasi non funziona niente, quasi? No, è sbagliato dire che qui non funziona niente. Questo è un glorioso e antico ospedale, uno dei più importanti della Calabria, lo era purtroppo. Oggi funzionano solo alcuni reparti e sono anche un'eccellenza, dovrei dire, tipo la chirurgia, tipo l'oncologia, tipo la cardiologia e quant'altro. Purtroppo c'è l'insipienza della politica locale, regionale e metropolitana che trascura completamente questo territorio e che sta affossando definitivamente l'ospedale di merito portandolo verso la chiusura. Perché se lei ha visto negli ultimi finanziamenti regionali, qui c'era un finanziamento in Ail di 47 milioni di euro, non ci sono più, c'era 10 milioni di euro, 47 miliardi, 10 milioni di euro dall'era scopelliti per ristrutturarlo, non ci sono più quelli per fare quel pronto soccorso, alle nostre spalle abbiamo il pronto soccorso. A fianco c'è un altro pronto soccorso che nell'era Covid c'era il finanziamento per rimetterlo completamente a nuovo e poi attrezzarlo e lasciarlo per il post Covid. Il Covid è passato, il laboratorio non l'hanno mai realizzato il nuovo pronto soccorso. E oggi quanto è l'attesa al pronto soccorso? L'attesa al pronto soccorso ha momenti molto affollata, perché qui considera che c'è una sola ambulanza intanto in questo ospedale che copre un'utenza di 50 mila residenti nei luoghi vicini, non c'è un punto nascita, quindi se uno deve partorire e mettersi in macchina, lei conosce bene la superstrada per esempio ionica, ad inverno ancora si circola ma d'estate. Quindi il primo punto è Reggio Calabria? Il primo punto è Reggio Calabria, spesso non funziona la radiologia, allora guasta la macchina spesso. Che succede? Che un paziente che deve subire un intervento a merito, sono molto bravi in chirurgia, deve essere mandato all'occhio a Polistena per fare la radiografia, per tornare qua, la TAC, è una cosa assurda. Stiamo parlando di 100 chilometri? Stiamo parlando di 100 chilometri. Insomma ci sono tante criticità sulle quali però, ripeto, la responsabilità è solo della classe politica inesistente. Il Tribunale ha revocato la misura cautelare a carico di Giuseppe Migliazza, residente a Borgia. L'uomo era stato arrestato insieme ad altre 5 persone lo scorso 3 ottobre durante un'operazione condotta dai carabinieri della compagnia di Catanzaro e di Soverato, i quali hanno dato esecuzione a 6 ordinanze di custodia cautelare emessa dall'ufficio del Tribunale di Catanzaro nei confronti di soggetti che si sarebbero resi responsabili del reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. In quell'occasione era stato proceduto anche al sequestro preventivo degli appartamenti utilizzati per le attività illecite. Il Tribunale del riesame di Catanzaro lo scorso 13 ottobre, accogliendo i motivi proposti dal legale dell'indagato, aveva ordinato l'immediata scarcerazione di Migliazza, sostituendo la misura cautelare degli arresti domiciliari con l'applicazione della misura meno afflittiva dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. Oggi il giudice monocratico ha revocato la misura cautelare e l'uomo attenderà l'esito del processo a piede libero. Si è svolto alla Mezzia Terme un convegno organizzato da Federfarma Catanzaro dal titolo Il farmacista da Clark Kent a Superman come diventare supereroi. L'incontro è stato proprio l'occasione per sottolineare il ruolo del farmacista durante il periodo Covid dove proprio questi operatori sanitari hanno lavorato allacramente con grande spirito di servizio. Diciamo che grazie all'emergenza pandemica abbiamo avuto una vera e propria crescita professionale del nostro ruolo di farmacista. Oggi infatti non siamo più dei semplici operatori commerciali ma siamo in grado di erogare servizi sanitari e di elevata specificità. Conosciamo bene la storia clinica del paziente quindi abbiamo cercato di adottare e di sposare questo modello vincente che è quello della farmacia e dei servizi. Quest'anno Federfarma Catanzaro ha voluto organizzare un convegno fuori dagli schemi siamo andati su altre dimensioni parlando di superpoteri e supereroi. Certo non vogliamo darci sicuramente delle aree ma la pandemia ha sicuramente tracciato il nostro modo di lavorare. Assolutamente sì, il ruolo è totalmente cambiato con nuovi servizi principalmente con la telemedicina mi riferisco a ECG oltre al pressore e oltre al cardiaco credo che abbiamo dato una svolta e un aiuto ai cittadini in questo momento tragico della nostra Italia. Il farmacista è stata una figura molto importante abbiamo dato ciò che altre strutture non sono riuscite a dare abbiamo avuto sicuramente delle pressioni ma anche delle criticità e quindi noi stasera oggi vogliamo fare un confronto sui sistemi che l'attuale servizio farmaceutico può dare ai cittadini. L'Egambiente ha inaugurato a Riccadi nella Vibonese la prima Green Station della Calabria ospiterà anche un ecomuseo dedicato alla Fiumara Ruffa. È la prima Green Station calabrese è una delle prime in Italia concessa da RFI la rete delle ferrovie italiane incomodata d'uso al Circolo Legambiente di Riccadi è stata inaugurata a Santa Domenica di Riccadi e oltre ad essere sede dei circoli vibonesi sarà, per com'è nella intenzione degli attivisti un centro di innovazione sociale e culturale che attraverso azioni di volontariato possa coinvolgere il territorio le scuole e le istituzioni per promuovere una nuova idea di sviluppo ecosostenibile ma nel frattempo anche una concreta occasione di rigenerazione urbana. In più, grazie anche ad un accordo siglato con il comune di Riccadi ospiterà un ecomuseo dedicato alla Fiumara Ruffa ed entrerà a fare parte della rete museale a presentare la nuova Green Station oltre ai presidenti e gli attivisti dei circoli vibonesi con in testa Franco Saragò il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani e la presidente regionale Anna Parretta oltre ai componenti della direzione nazionale e rappresentanti delle ferrovie italiane. Quando nascono le nuove sedi dell'associazione che siano nuovi circoli o che siano circoli storici come quello di Riccadi è un appuntamento sempre molto importante perché avere luoghi dove i circoli si possono incontrare con i cittadini con le altre associazioni per promuovere quei progetti che servono a far crescere i territori dove operano le nostre realtà locali è sempre un'occasione importante e questa nuova sede è doppiamente importante perché è una delle sedi dell'associazione che nasce in locali delle ferrovie dello Stato nell'ambito di un progetto nazionale che ormai ha quasi un decennio di vita che è il progetto sulle Green Station ci sono tante attività in provincia di Lecco in provincia di Venezia a Pescara, a Potenza a Ponte Cagnano in provincia di Salerno insomma arriva finalmente anche la prima Green Station in Calabria e questo appuntamento meritava anche la mia presenza è la prima Green Station della Calabria una delle prime in assoluto in Italia ed è una bella occasione per ridare vita alle stazioni che erano in abbandono questa stazione era chiusa da tanti anni ed era preda di vandali quindi grazie a RFI che ci hanno concesso questi locali noi diamo rigenerazione a un'area ma soprattutto creiamo un'occasione di aggregazione tra la comunità anche dal punto di vista culturale perché nel prossimo futuro immaginiamo di realizzare in questa Green Station un eco-museo della Fiumara Ruffa dove racconteremo le bellezze che ci sono sul territorio e nello specifico di Valle Ruffa dove c'è uno scrigno di biodiversità e quindi racconteremo ai turisti racconteremo soprattutto alle scolaresche che possono raggiungere questo sito anche in maniera green attraverso le rete ferroviarie racconteremo una parte bella della nostra Calabria si parla di internazionalizzazione al liceo classico Pitagora di Crotone l'istituto ha ottenuto dall'agenzia nazionale Erasmus l'accreditamento per i progetti di mobilità per il settore scuola per il periodo 2023-2027 vediamo nel servizio di cosa si tratta il liceo classico Pitagora di Crotone ha ottenuto dall'agenzia nazionale Erasmus Plus l'accreditamento per i progetti di mobilità per il settore scuola per il periodo dal 2023 al 2027 il liceo Pitagora si apre sempre di più all'Europa ed internazionalizza la sua offerta formativa accreditandosi così al programma Erasmus Plus è stato proprio costruito attorno a quattro obiettivi principali primo favorire appunto il miglioramento delle competenze nella lingua straniera e lingua inglese continuare nella direzione già intrapresa cioè di puntare la transizione digitale quindi cercare di fare nostre le buone pratiche già diffuse nel resto d'Europa puntare la transizione ecologica con un'attenzione particolare a quello che è il patrimonio culturale e artistico ultimo obiettivo ma non per importanza è puntare a rafforzare l'idea di cittadinanza e l'essere cittadini in un contesto globale europeo proprio avvicinandoci e valorizzando le diversità culturali presenti in Europa soprattutto verso il centenario di questo istituto manca meno di un anno sì il centenario di questo istituto che ci accingiamo a festeggiare proprio cercando di valorizzare questa sua impronta innovativa che è legata anche ad altri indirizzi preesistenti nell'istituto che appunto cerchiamo e tenteremo di continuare a valorizzare è il connubio fra tradizione e innovazione che vogliamo rafforzare anche attraverso appunto le risorse europee che diventano comunque un elemento importante per tutto il contesto all'interno del quale il Pitagora insiste nasce a Crotone un nuovo partito politico pro Italia con l'obiettivo di portare un reale cambiamento nella gestione della città pro Italia si presenta come un'alternativa fresca e innovativa alle tradizionali forze politiche locali pro Italia arriva in città ma quali sono gli obiettivi di questo partito gli obiettivi di questo partito sono quelli di riacquistare la sovranità e il lavoro che l'Italia merita soprattutto a Crotone e come? allora noi vogliamo rivoluzionare il concetto di intendere la politica quindi vogliamo superare i valori di destra e i valori di sinistra prendendo di entrambi il buono non essere più divisivi perché li riteniamo valori antiquati e quindi raggruppare tutte le persone che hanno voglia di partecipare attivamente alla vita politica qui in città è arrivato il direttivo nazionale il partito si struttura nella provincia di Crotone ma da dove si inizia? allora io mi occupo di tutta la provincia ne faccio direttamente sono il responsabile abbiamo portato qui abbiamo messo su un team di giovani siamo tre ragazzi fondatori principali e abbiamo intenzione di coinvolgere la cittadinanza cosa c'è da fare a Crotone? cosa si propone di fare Pro Italia a Crotone? intanto di coinvolgere la cittadinanza come è giusto che sia renderla partecipe e far capire ai cittadini che loro hanno il potere in mano di cambiare le cose e lo possono fare solo partecipando alla vita politica vogliamo cambiare soprattutto la struttura della città perché stiamo vedendo come in questo momento è in una situazione un po' fatiscente e siamo giunti all'ultima notizia la Viola Reggio continua a sperare battendo al Pallafiore la Virtus Padova per 74-73 Viola Reggio sempre grappata alla speranza di rimanere in serie B di basket i nero-aranci infatti battono i veneti e continuano a lottare per la salvezza Farina 19 punti e Spizzichini 19 rimbalzi fra i migliori la Viola batte la Virtus Padova al Pallafiore al termine di una delle partite più belle dell'anno per i ragazzi di Coach Bolignano che prendono due punti e continuano a sperare di arrivare agli spareggi per evitare l'interregionale le prime battute mettono in mostra tanto equilibrio al Pallafiore Spizzichini sblocca il tabellino della lunetta poi inizia un tiro in molla tra Viola e Virtus nel finale del primo periodo Padova mette a referto una mini fuga chiudendo sul 19-25 dopo il primo break però si accende il talento di Simone Ferina il ritorno di Reggio vale il sorpasso nonostante i quattro punti di Paolini in serie ci pensa Spizzichini a disegnare il parziale di 39-38 all'intervallo lungo nel secondo tempo Bolignano sceglie di rischiare Marchini non al meglio e poco utilizzato nel primo tempo si gioca punto a punto con frequenti cambi di vantaggio il finale diventa incandescente si parte con un periodo da giocare dalla punteggio di 56-55 un'altra tripla di Balic fa risultare il palacrofiore ma gli ospiti non si danno per vinti nel finale Reggio butta il cuore oltre l'ostacolo uno strepitoso Spizzichini prende due liberi realizzando entrambi andando al 70-68 la viola difende bene il finale ed abbatti cuore per i tifosi che affollano il palac alla fiore ma dolcissimo per la viola il tabellone finale è 74-73 con affarina top scorer e uno Spizzichini da 19 rimbalzi si spera ancora è tutto per questa edizione ora vi lascio con le notizie dall'Italia e dal mondo grazie per averci seguito Grazie a tutti